C'è bisogno di tempo. E dove? All'ammasso dei rifiuti. Grazie. Le foto subito nel mio ufficio. Falla portare via quando avete finito. Un colpo sparato a distanza ravvicinata. L'arma era con tutta probabilità un revolver calibro 9. Il volto è stato sfigurato dopo la morte con acido solforico. Ehi, levati di mezzo. Nessuno ti ha chiesto questo. Portala via, ubriaca, forza. La sua subinquilina sparisce per quattro settimane e lei, signora, non si pone nessuna domanda? C'è qualcun altro qui? Come si chiama? Come si chiama quell'uomo? Röcke. Nome? Maria. Maria? Io non so che farci se quello si chiama Maria. Car Maria Röcke. E che lavoro fa il signor Maria? È impiegato, se non sbaglio. Dove? Al bar Monnalisa. Ehi, c'è qualcuno che ha molta fretta. Che cosa vuole? Polizia criminale. Vuol darmi le sue generalità? Il mio nome è Scene, sono avvocato. Lei ha attraversato il cortile. Ha visto qualcuno venire via di corsa dalla cantina? No. Da dove viene lei? Dal mio studio, che è in questo palazzo. Il proprietario del locale è lei? No, solamente il gestore. E il proprietario? Malenche. Oh, è un locale di Malenche, questo. Una pugnalata direttamente al cuore. Che avete trovato? Documenti. Però, pratiche, lettere, dobbiamo ancora controllare. Domanda alle altre ragazze, ci scommetterei che qualcuno l'ha già vista. Tu dove vai? Faccio un giretto. Ah, bene. Eppure giurerei su qualunque cosa che lei mezz'ora fa indossava un vestito che non è questo. Le abbiamo detto che si sbaglia. Sì, sì, mi scusi. Vado subito dall'oculista. Beh, hai saputo qualcosa della ragazza? Sì, veniva sempre in questo locale. Vuoi che ti dica chi è questa? Sono sicuro che me lo direi comunque. La figlia della signora Hager. Ah, re che lei lo conosceva molto bene. Non mi faccia ridere. Vuole che conosca ogni cameriere. Anche questa ragazza non conosce? No, 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 no. Prima era così. Lei ha certamente un avvocato. Sì, l'avvocato Schoene. Chi ha ammazzato Re che deve essere fuggito attraverso il cortile. Sono arrivato subito dopo il delitto e ho visto il dottor Schoene che usciva in macchina dal cortile. Adesso mi dici se hai il porto d'armi. Ce l'ho, certamente. Ci mandano sempre lettere minatorie. Abbiamo ottenuto il permesso di portare armi all'interno del recinto. Allora ti voglio dare un consiglio, caro il mio Bubi. Non uscire di casa con questa, altrimenti ti faccio passare un brutto quarto d'ora. Va al diavolo, sbirro di merda. Questo era per lo sbirro di merda. Se vuoi denunciarmi, accomodati pure. Quello ha minacciato di arrestarmi davanti a tutti se non venivo spontaneamente. Ma no, come ti è venuto in mente di dire una cosa simile a questa povera ragazza? Continui a fare di testa tua, eh? Scusa, ma... Scusati con lei, invece. Mi scusi? Beh, ora non si mette a piacere. Offri una sedia alla signorina. Che modi. Se ti va è così. La sua amica, Annie Rote, abitava in casa di sua madre, e sembra una favola, e ad un tratto sparisce. Sua madre si sarà chiesto, dov'è Annie? Come mai non viene più? E lei le ha risposto, lascia perdere, non te ne interessare. Sua madre allora ha replicato, adesso chi me lo paga l'affitto? Ti ho detto di fregartene, mamma, e di non pensarci più. Stava dietro la porta? No. No, ma è come se ci fossi stato. Falso. È tutto falso. Ci dimostri che è falso dicendoci qual è la verità, invece. A lei non dico niente. Lei ha l'abilità di nervosirmi. Ti prego di uscire subito. Eh, me ne andrò a bere una birra. Dove abita lei? Erwig Strass 5. Stasera al suo posto io eviterei di andarci. E quella perché? Erwig Strass 4. Io andrei un po' da quelle parti. C'è qualcuno là dentro. E qualcuno nella macchina là di fronte. Che facciamo? Tu blocchi quello all'ingresso e io quello nella macchina, d'accordo? D'accordo. Adesso. Che cosa fa? È impazzito. Io no, di certo. Che cosa fa lei qui? Harry! E adesso alza le tue le mani, brutto sbirro di merda. Ti ho già avvertito una volta, Bubi. Se ti avessi incontrato in strada con quella pistola avresti passato un guaio. tutto a posto? Sì. Adesso tocca a te, bello mio E ti consiglio di non risparmiare il fiato Stramaledetto, non romperei le palle D'accordo, non lo farò A patto che tu mi dica perché eri qui Qualcuno per caso ha subito violenza? Dunque il suo gorilla Kemmerer è corso subito a riferirle tutto Avete ferito qualcuno? Se alluda Winkler glielo posso confermare Allora signori miei vi consiglierei di non fare tanto i galletti Si dovrà sentire anche la versione di Kemmerer, no? Io penso che la cosa si sia svolta in un modo un po' diverso Ah, ecco, è chiaro Davvero? Che cosa è chiaro? Ho capito che troverò Kemmerer solo dopo che lei avrà parlato con il suo avvocato Comprende al volo lei, Derrick Sì, questa è una mia dote, è vero Rifletta, eh? Non rifletta a lungo, però Se Kemmerer lo scoviamo noi Non vorrei trovarmi al suo posto Le pagherà tutte in una sola volta Sai dove può essere Kemmerer? Non ne ho idea Mi ha telefonato circa un'ora fa Sto andando allo stabilimento Termale a curarmi la sciattica Se vuoi al pagare e darmi modo di svignarmela bene, altrimenti parlo Allora vuoi ricattarlo? Puoi esserne sicuro Kemmerer è stato trovato morto in un bagno Termale Cosa? Il bagnino ha chiamato subito il medico che ha potuto soltanto costatarne la morte Per crisi cardiaca, ha detto Fa sequestrare subito il cadavere L'avvocato è uscito cinque minuti fa e è andato in ufficio Ma aveva un appuntamento con me? Lui riceve solo in ufficio Mi ha detto di dirle questo Che cosa ha ritirato qui? Perché dovrei dirlo a lei? Polizia criminale, faccia vedere Perfetto Che macchie sono queste? Non me ne intendo, io faccio solo il trasporto Beh, questa la prendo io Se mi interrogano io dico tutto Non dirai proprio niente Aggraveresti la situazione Ma Winkler parlerà E non dirà che io ero soltanto presente Quando ha ucciso Reke Sei davvero uno sproveduto In questo gioco li hai tutti in pugno Ti rendi conto Con tutte le cose che sai Hai finalmente l'occasione Di poterti prendere una rivincita in tutti i sensi Carissimo avvocato Perché queste stupidaggini? Suona quasi come un ricatto Perché si fa prendere dal panico, non capisco Era stata assunta soltanto una cosa E non mi interrogano Guadagnerai un mucchio di quattrini Se si tratta di un'intenzione E che doveva fare? Aspettare che non c'era una persona Uscisse di me la sera E mi trovo che cosa consiste Nel fatto che la fai Ah già A scopo di ricassi Scegli che faceva la sua madre? Sì E la sua ex soprattutto La sua ex? La signora Kiesler La sua segretaria La sua ex? La sua ex? Venga fuori Che fa? È impazzita Lei ha da perdere più di lui Se lo ammazza Grazie a tutti Grazie a tutti.